Romina Power si sta preparando a festeggiare l'ultimo dell'anno in compagnia di Albano e tantissime persone, in diretta dalla Polonia Dai social possiamo notare però che qualcosa la disturba e la rende inquieta, di cosa si tratta? Romina Power è in Polonia insieme ad Albano Carrisi, pronta per festeggiare l'arrivo del 2019 in piazza davanti a tantissimi fan presenti e da casa Non riuscendo ad essere diplomatica, i suoi post di Instagram fanno emergere sempre il suo stato d'animo Romina Power Capodanno in Polonia appunto abbiamo potuto assistere nei giorni passati al battibecco tra Albano e Loredana Lecciso in merito al Capodanno Nonostante l'ex del cantante sia stata invitata, lei ha preferito declinare per passare del tempo con la propria famiglia Il cantante pugliese è già in Polonia insieme a Romina, pronti per passare una serata in compagnia deliziando tutti gli spettatori con un medley delle loro canzoni più famose Romina Power infuriata sui social.Da quel che si evinse dal post, le condizioni atmosferiche presenti nel luogo del concerto sono pessime, tutta l'area è coperta dalla neve e le temperature continuano a diminuire Romina si è dichiarata arrabbiata e preoccupata, in vista di una lunga notte al freddo Si chiede di chi sia stata l'idea di organizzare un fine d'anno proprio in un paese così freddo, tanto da temere per la sua voce e incolumità Di certo la cantante non può dare forfait o cambiare programma e nonostante la sua inquietudine, le consigliamo di vestirsi pesante e cantare per tutta la notte Romina Power infuriata